Ciao a tutti ragazzi, io sono Coridan, ancora una volta ben ritrovati nel mio canale. Oggi vi presento tre giochi tascabili, velocissimi, molto divertenti e tutte quante edizioni di Asbo d'Italia che ancora ringrazio per avermi offerto tutto quanto questo materiale, materiale che non ho richiesto per una recensione e me l'hanno inviato loro direttamente a casa, quindi li ringrazio dieci volte di più perché tra l'altro sono giochi che sono veramente molto interessanti, sono giochi anche volendo competitivi ma soprattutto sono giochi che allenano particolarmente tanto la mente e sono giochi trasportabili li potete portare ovunque perché lo vedete, è il classico gioco tascabile che lo potete portare in qualsiasi posto ve ne parlo a breve dopo la sigla I tre giochi in questione che vedete da sinistra a destra, o meglio dalla vostra destra va bene, comunque dalla mia sinistra a destra sono Ole Guacamole, Master World e da questa parte l'edizione tascabile di Citadels questi due giochi sono abbastanza uguali, poi nel frattempo ve li faccio vedere da vicino cioè abbastanza uguali, abbastanza simili come tipo di contenuto e regole mentre quest'altro è un gioco prettamente logistico e di costruzione della vostra città in questo gioco qui al centro, Master World, iniziando da questo, si dovrà trovare una parola e ogni volta verranno messi degli indizi sul tavolo che saranno indizi scelti dai giocatori laddove, come vedete qui davanti con un pennarellino, voi dovrete andare a scrivere sopra una carta che vi consiglio di non cancellare con le gomme ma anche con un pezzo di carta perché magari ci rimangono le strisciate, gli aloni e rischiate di rovinare il gioco quindi non è indelebile, comunque andateci sempre con un pezzo di carta dovremo scrivere sulle carte indizi la parola che bisogna trovare perché magari tirando fuori una carta, quello che un po' è il Dungeon Master o colui l'arbitro che guida il gioco, magari in questa parola potrebbe venire fuori animale e l'animale è, boh, la tigre oppure l'elefante noi dovremo prendere delle carte indizio, una per ciascun giocatore che saranno sempre tre sul tavolo e andare a scrivere cosa potrebbe essere però regola del gioco vuole che è molto carino che se scrivete la parola esatta della soluzione su una carta indizio avete perso tutti quanti quindi se scrivete tigre e la parola era tigre avete fallito quindi dovete cercare di mettere dettagli o fare domande che possono indirizzarvi verso la creatura e poi alla fine darete la soluzione quindi è un gioco veramente molto carino che ricorda un po' se vi ricordate la scena della bettola di Bastardi Senza Gloria di Tarantino quando giocano con le carte messe in testa se vi ricordate quella scena lì insomma lo ricordo un po' in quest'altro qui accanto invece alla mia sinistra Olegua Camole il giocatore in questione di turno perché si gioca anche qui ovviamente sempre turno A, turno B, turno C quindi avranno un'azione da fare tutti quanti i giocatori si andrà a pescare una di queste carte qui che molto probabilmente avranno una lettera quindi quando viene pescata una di queste carte il giocatore di turno deve dire una parola che non contenga nessuna delle lettere che sono state disposte sul tavolo perché se dovesse dire una parola che va a contenere la può dire una volta soltanto no ci ho ripensato, ci ho ripensato deve pensarci e dirla se andasse a dire una parola che contiene una delle lettere che ci sono qui fallirebbe il turno le parole che vengono dette anche nei turni successivi devono essere collegate quindi ad esempio se un giocatore dovesse dire gatto quello dopo potrebbe dire felino ad esempio o comunque qualcosa sempre collegato al gatto o al felino alla parola principale devono avere un senso non può magari da gatto passare aeroplano una cosa del genere stando attento a non dire la lettera che è appena uscita se viene pronunciata la lettera che una delle lettere che sono sul tavolo o passano 12 secondi quindi dovete contare voi magari o prendere un cronometro o qualsiasi cosa conviene anche usare quello del telefonino se passano 12 secondi o viene detta una lettera che è uscita sul tavolo a quel punto lì tutti quanti i giocatori devono dire ok guacamole bloccare il gioco bloccare un attimo la partita metterla tipo in freeze e il giocatore che ha sbagliato la parola deve prendere tutte le lettere che sono in campo deve prendere e portarsene dalla sua parte alla fine della partita quando finisce sono vari turni ovviamente di gioco quando si arriva alla fine il giocatore che ha un valore minore di carte in mano non soltanto il numero di carte che ha in mano però hanno un valore un punteggio chi ha più carte in mano quindi un punteggio potenzialmente più alto ha perso bisogna rimanere con meno carte in mano possibile e quindi un gioco veramente come vedete stravelocissimo invece in questa versione di citadets che vedete qui alla mia destra versione portabile tranquillamente ovunque trasportabile perché è piccolino è un classico gioco un po' da me lo metto veramente in borsa in uno zainetto o lo porto anche a mano perché sono di quei giochi che ti basta anche poco tavolo dove giocare sarete chiamati a vestire i panni di costruttori e dovrete costruire la vostra città dovrete arruolare dei personaggi dei costruttori sulle carte che poi sono queste carte qua giù rappresentate qui davanti e ciascuno di loro ha un'abilità tipo magari in quel turno tutti quanti coperti te ne scegli uno e quella te lo passa agli altri giocatori quello se ne sceglie un altro e le passa agli altri facendoveli girare dovete tenere un personaggio e ogni personaggio ha un'abilità speciale ad esempio l'assassina potrebbe distruggere una uno dei quartieri che sono in gioco di un giocatore perché dovete anche farvi dei dovete un pochino sabotarvi azioni di sotterfugio perché qui vince chi costruisce la città migliore quando verranno messi tot quartieri in gioco dal regolamento sarà finita la partita il gioco si fermerà e andremo a vedere il giocatore che avrà vinto quindi c'è comunque un numero massimo di quartieri che possono essere messi quartieri ovviamente che si possono comprare con le monete quindi pagare un quartiere oppure come vi ho detto azioni che vanno collegate direttamente ai personaggi quartieri che danno rendite anche cose del genere ma andando a utilizzare le carte personaggio magari in quel turno ti potrebbe servire sabotare qualcosa a un giocatore quindi usi il personaggio A la volta dopo magari ti serve prettamente un costruttore perché hai bisogno di più risorse per andare a costruire il quartiere che ti porterà la vittoria quindi scegli il personaggio B però sempre se il personaggio B non te l'ha già preso qualcun altro perché il personaggio è unico quindi non ti puoi sbagliare o lo prendi te o lo prendi qualcun altro quindi fondamentalmente questi qui sono due giochi di parole questo indizio dovete capire qual è l'indizio della carta questo di qua invece dovete semplicemente riuscire a dire non ci sono indizi però di riuscire a dire parole che non siano comprese sulle carte sul tavolo mentre questo di qua è un gioco prettamente logistico un gioco competitivo e se vi piacciono veramente i giochi di costruzione di città fatto tutto quanto con le carte elementi scenici ce ne sono veramente pochi è un gioco che secondo me vi divertirà veramente tanto io ringrazio ancora una volta Asmode Italia per avermi offerto tutti quanti questi prodotti li trovate in tutti i migliori negozi di giochi da tavolo perché Asmode, il catalogo di Asmode è praticamente in qualsiasi negozio dove trovate un gioco da tavolo ci sono molto probabilmente anche loro e sono veramente molto interessanti ragazzi non sono giochi da giocatori hardcore però sono giochi che dove li portate li portate e farete divertire perché sono giochi per tutte le età questo magari c'è da spiegarlo un pochino di più perché ha qualche regoluccia in più questo e questo ragazzi cioè il regolamento di guacamole è veramente finito è quello di Masterworld uguale su tre pagine quindi li portate ovunque e farete divertire fatemi sapere cosa ne pensate ciao ragazzi alla prossima